Dunque, queste graziose ospiti sono qui a specifica richiesta del maestro Ennio Morriconi. Ennio, vieni qua, ti devo fare delle domande. Senti, dimmi un po'. Queste graziose signorine, come mai sono qui? Come mai le invitate? Come mai le invitate? Vuoi saperlo? Non mi inviteremo? Certo che voglio saperlo, anche gli spettatori vogliono saperlo. Adesso te lo dico. Vedi, durante la mia carriera di arrangiatore di orchestra di dischi... Sì, una carriera piuttosto bella e importante. Ho avuto l'occasione di accompagnare parecchi cantanti, bravi, meno bravi, famosi, meno famosi. Certo. E ho avuto quasi sempre, come collaboratori vicinissimi, i cantori moderni di Alessandro Alessandroni. E questa sarebbe la parte femminile, però, perché ci sono anche gli uomini. Esattamente, la metà esatta. Secondo me più della metà, effettivamente. Ho capito. Loro però hanno sempre collaborato con me, anonimamente, cioè come un complesso vocale, rinunciando alla loro personalità. Sono quelle voci che noi sentiamo come sfondo musicale, le tue bellissime musiche. E poi ho capito, quelle voci d'angelo che noi sentiamo. Questa volta sono qua per tutt'altro impiego. Per cantare sole, sole, ognuna come voce solista. Che bello. Dal momento che loro proprio sono delle soliste. Ma questo è un bellissimo pensiero. Poi è un'idea nuova anche. Bravo. Hai scritto un pezzo apposta per questo? L'ho scritto per loro e l'ho dedicato a loro. Senti, ma cantano tutte insieme oppure una alla volta? Una alla volta. Una alla volta. E tutte insieme. Come si chiama questo brano? La nostra notte. Tu lo dirigi? E vado a dirigerlo. Bravo, io vado ad ascoltarlo. La nostra notte vive. La nostra notte è una notte è una notte è una notte. che è una notte è una notte. La nostra notte è una notte. Per un attimo. Per un attimo correrà. La nostra notte è una notte è una notte è una notte è una notte. La nostra notte è una notte è una notte è una notte. Sospende il tempo 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 Sospende il tempo